Risate, applausi e un po' di sana autocommiserazione. È impossibile non immedesimarsi nelle gag esilaranti di contrattempi moderni. Il one-man show firmato e interpretato da Raffaello Tullo, che è stato ospite a Trani di Palazzo Beltrani, con la sua lettura ironica della società e dell'uomo moderno, schiavo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Una divertente fisica al comedy dal sapore internazionale e di moderna ispirazione cepliniana, che attraverso l'uso creativo di schermi e dispositivi e il suo ritmo incalzante, racconta il rapporto malsano tra uomo, domotica e non solo. Quello che accade in scena è molto simile a quello che accade nella mia vita. Infatti è tutto ambientato in questa casa, iper tecnologica, e la tecnologia si diverte a crearmi degli inciampi, per cui succedono delle cose che fanno ridere. Contrattempi moderni è lo spettacolo che ha rappresentato il debutto da solista del performer Raffaello Tullo, fondatore e coautore di tutti gli spettacoli della Rimbaband. Lo show ha costituito il primo appuntamento della sezione teatro d'autore, tra gli eventi speciali teatrali della stagione artistica estiva 2024 di Palazzo delle Arti Beltrani. Uno spettacolo che ha registrato fin dal suo debutto continui successi e sold out, e che si propone sempre in continua evoluzione, con nuovi numeri e gag capaci, se possibile, di rendere la storia ancora più evocativa ed esilarante. Di rappresentare insomma la vita di ogni uomo e ogni donna, che ogni mattina aprono gli occhi e accendono il proprio smartphone, per dar vita nuove, incredibili, disavventure. Il rapporto dell'uomo con la tecnologia, così come accade con il rapporto dell'uomo con qualsiasi altra cosa, dipende dal rapporto che l'uomo ha con se stesso. Ed è questo, diciamo, secondo me, il focus di questo spettacolo. Quando l'uomo è in crisi con se stesso, di conseguenza entra in crisi e in conflitto con tutto ciò che gli ruota intorno.